Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio parlarvi di quella che è stata la mia esperienza con Iliad FTTH, a partire dall'attivazione fino all'utilizzo giornaliero. Ho aspettato un po' di tempo prima di fare questo video in quanto volevo analizzare nel dettaglio, nell'ultimo mese, quali fossero i principali vantaggi e svantaggi di questa offerta. Vi invito quindi a guardare questo video fino in fondo in quanto potrò darvi probabilmente qualche suggerimento e qualche consiglio nel caso in cui vogliate appunto procedere anche voi nell'attivazione di questa offerta. Partiamo dai motivi che mi hanno spinto a scegliere di cambiare operatore. Diciamo che già da un po' di tempo stavo valutando l'opportunità di fare un cambio operatore in quanto ho attivato un'offerta FTTH molto tempo fa, quindi avevo un'offerta fin troppo vecchia, avevo delle velocità in download e in upload molto limitate e inoltre avevo anche qualche problema di disconnessione dovuto al surriscaldamento degli apparati fornitomi dagli operatori. Il secondo motivo invece riguarda il risparmio in fattura. Se sei già cliente Iliad in pratica potrai risparmiare ulteriori 8 euro sul costo mensile della fibra FTTH Iliad. Quindi attivando questa offerta avrei risparmiato oltre 13 euro rispetto al precedente operatore. Dal punto di vista tecnologico al di là di avere un upload più veloce e più spinto avevo essenzialmente due necessità. La prima che consiste nel fare port forwarding e quindi aprire delle porte all'interno del mio router e la seconda come diretta conseguenza avere la possibilità di raggiungere la mia VPN interna, la mia VPN domestica con WireGuard, avendo appunto la possibilità di aprire queste porte e quindi collegandomi dall'esterno. Sin dal giorno della presentazione ufficiale di questa offerta ho seguito con particolare attenzione soprattutto il forum di FibraClick per comprendere appunto gli aspetti tecnologici di questa nuova offerta FTTH Iliad. All'inizio c'erano pareri piuttosto contrastanti sulla questione port forwarding, quindi ho deciso di temporeggiare e posticipare quindi l'attivazione. Dato che Iliad è un'azienda relativamente giovane nel mondo delle telecomunicazioni e non ha a disposizione un pool di indirizzi pv4 pubblici a differenza della concorrenza hanno dovuto trovare un modo per permettere quindi di assegnare questi indirizzi ai propri clienti. Senza entrare troppo nei tecnicismi quindi Iliad tecnologicamente utilizza delle tecnologie come CGNET e MAP-E per poter utilizzare un pool di indirizzi IP privato all'interno della sua rete da assegnare ai propri clienti e quindi consentire di fatto port forwarding e indirizzo IP pubblico. In pratica queste due tecnologie ci consentono di avere un indirizzo IP privato all'interno della sottorete Iliad e di rimappare un subset limitato di porte per eseguire appunto il port forwarding. Quindi la prima conseguenza diretta è che non possiamo eseguire un port forwarding uno a uno delle nostre porte quindi se vogliamo aprire una porta ben specifica non lo possiamo fare. Dobbiamo associare quella determinata porta ad un range di porte che Iliad ci mette a disposizione. Ad ogni modo è comunque possibile attivare una serie di servizi come il Dynamic DNS o una VPN direttamente all'interno della Iliad Box ma non voglio entrare troppo nel dettaglio dal punto di vista tecnologico della Iliad Box se volete possiamo approfondire queste cose in un altro video. Chiarito quindi questo dubbio tecnico e avendo quindi la possibilità di eseguire port forwarding seppur limitatamente ho deciso di avviare il processo di registrazione e quindi registrare un nuovo account. Sotto questo punto di vista nel momento in cui andiamo ad eseguire la registrazione Iliad ci rilascerà delle nuove credenziali. Ecco questo diciamo è un punto un po' a sfavore in quanto Iliad potrebbe decidere di consentire di gestire più offerte contemporaneamente con un singolo account ma questa comunque è una virgola è un cappello di poco conto. Quindi anche se siamo già possessori di una offerta sim Iliad di fatto andremo ad eseguire un nuovo contratto andremo a stipulare un nuovo contratto. Inoltre per poter ottenere l'ulteriore sconto di 8 euro è necessario che i due intestatari coincidino quindi l'intestatario della linea FTTH deve coincidere con l'intestatario della sim Iliad in più nel dettaglio devono coincidere i codici fiscali e ovviamente sulla sim deve essere attivo un pagamento in abbonamento quindi in sostanza il credito non deve essere caricato mediante ricaricabile bensì in abbonamento con carta di credito. Durante la registrazione Iliad potrebbe inoltre chiedervi di anticipare il processo di attivazione fleggando una checkbox. Questa checkbox di fatto vi consente di rinunciare ad una serie di vantaggi per quanto riguarda la rescissione contrattuale e anticipare l'attivazione di qualche giorno. Onestamente io non ve la consiglio uno perché il vantaggio si traduce in un paio di giorni due tre giorni di anticipo nelle due tre settimane di attivazione e due perché essenzialmente io ho avuto un po' di problemi sulla fase di attivazione quindi di fatto quell'anticipo si è tradotto invece in una normale attivazione. A termine della procedura di registrazione circa una settimana dopo sono stato contattato dai tecnici di Open Fiber per fissare un appuntamento per l'installazione dell'Iliad Box. Di fatto non avrei dovuto subirmi l'installazione e l'infilaggio dei cavi del fibrino in quanto ero già cliente Open Fiber con un altro operatore. A questo momento in poi sono entrato in una specie di limbo in quanto per ben cinque volte di fila il tecnico non si è presentato e anche telefonando all'assistenza clienti di Iliad non ho avuto particolari riscontri in merito alla problematica. Quindi sono rimasto più o meno segregato in casa in attesa del tecnico per cinque giorni di fila e dopo una settimana comunque il tecnico si è presentato e è venuto ad installarmi l'Iliad Box. Diciamo che sotto questo punto di vista non mi sento di dare la colpa né a Iliad né ad Open Fiber in quanto è difficile diciamo dal punto di vista B2B organizzarsi e quindi dare supporto al cliente. Alla fine il problema era essenzialmente dovuto al fatto che non erano stati consegnati i modem ai tecnici di Open Fiber o almeno così mi è stato comunicato. L'esperienza con la connessione FTTH è fantastica c'è la velocità c'è il download c'è l'upload ci sono ancora delle cose che sicuramente si potrebbero migliorare ad esempio l'instradamento e di conseguenza il ping però è una rete che vale comunque la pena provare testare tenere diciamo che per un uso prettamente domestico è un bel prodotto. L'offerta nel mio caso oltre ad offrirmi quindi chiamate limitate prevede una connessione a internet con una velocità di download fino a 5 gigabit per secondo ed una velocità in upload fino a 700 megabit per secondo. Chiaramente con l'Iliad Box diventa un po' difficile saturare queste velocità tuttavia possiamo utilizzare più dispositivi contemporaneamente per raggiungere i 5 gigabit e i 700 megabit rispettivamente in download e in upload. Questo perché l'Iliad Box di fatto non ci mette a disposizione una porta ethernet che possa soddisfare appunto questa ampiezza di banda e lo stesso dicasi anche per quanto riguarda il wifi. È chiaro che se abbiamo più dispositivi che cumulativamente raggiungono queste velocità potremo comunque tranquillamente sfruttare tutta l'ampiezza di banda messa a disposizione. Un'altra cosa che mi viene in mente che ho particolarmente apprezzato dell'offerta di Iliad riguarda il modo di comunicare i disservizi e gli interventi tecnici. Circa un mese dopo l'attivazione mi hanno contattato telefonicamente per comunicarmi che in una determinata data X non avrei potuto usufruire della mia connessione a internet in quanto avrebbero dovuto eseguire un po' di manutenzione sull'armadio di strada. Questo non mi è mai capitato con qualche altro operatore quindi un punto in più anche per Iliad. Bene ragazzi direi quindi che è tutto. Spero di aver chiarito ogni dubbio in merito all'offerta Iliad FTTH. Ovviamente se avete dubbi domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto sarò felice di rispondere alle vostre domande. Inoltre se volete posso anche prepararvi un video un po' più tecnico sulla configurazione dell'Iliad Box su come l'ho configurata io per accedere a particolari servizi come Dynamic DNS o la VPN. Ad ogni modo se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like. Se i miei video vi piacciono vi invito inoltre ad iscrivervi al mio canale soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sulle nuove uscite e sui nuovi video. Per oggi è tutto io vi saluto alla prossima!